Il miglioramento dovrebbe accadere al punto che, ovunque ti trovi, ti distingui. Anche se muori, devi vivere. Ma quando stai vivendo, non dovresti essere morto. Molti saggi, santi così, hanno vissuto così intensamente che, dopo qualche migliaio di anni, non possiamo ancora dimenticarli. Questo ti deve accadere. Che il tuo corpo, la tua mente, la tua emozione, le tue energie non siano un impedimento nella tua vita. Proprio ieri qualcuno mi ricordava, nemmeno io l'avevo realizzato. Ho avuto un programma faticoso negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Sono interato qui, un solo giorno in Ashram, poi sono andato in Australia, un programma senza fine, un giorno ho preso una stupida febbre. Poi sono tornato qui solo per un giorno, poi sono andato in Nepal, ho fatto trekking nel Kailash, trekking in Nepal, trekking nel Kailash. Sono tornato nemmeno una giornata, mezza giornata. Poi sono partito per Covery Calling. Sai, ero in un tour nazionale di cinque giorni, cercando di portare avanti tutta questa attività politica per Covery Calling. sono tornato e lo stesso giorno ho iniziato per Covery Calling. Ho finito questo, sono venuto qui solo. Neanche un giorno, il 17 è arrivato, siamo arrivati. Il 18 mattina, presto, alle 9, sono ripartito per delle riunioni a Bagalore. Ed è andato avanti, avanti così, solo ieri sono tornato. Quindi dicevamo, Sadguru non hai avuto un solo giorno di pausa. Oggi è il mio giorno di pausa. Ok? Perché battete le mani? Da stamattina ci sono state pile di documenti ed eccovi tutti qui. E ora ci sono riunioni e riunioni. Alle 11 c'è Kalabairava Karma. Questa sera c'è Mahalaya Mavasha. Questo è un giorno di pausa. Ok. Quindi, il corpo si lamenterà qualche volta? Certo che lo fa. Se il corpo non si sta lamentando, significa che non lo stai usando. Ci siete? Deve lamentarsi. Ma tu non ti lamenti. Solo questo devi imparare. Per questo, hai bisogno di devozione verso ciò che stai facendo. Se non hai devozione, prima del corpo, la mente si lamenterà, le emozioni si lamenteranno, ogni cosa si lamenterà. No, no, no. Prima il corpo dovrebbe lamentarsi. Ciò significa che sei tirato fisicamente. Poi, la mente può prendere una decisione un po' assennata, come me. Puoi fare una pausa come me. Significa che solo fino alle 24 se è attivo di notte. Solo fino a mezzanotte. Dopo dormi. Altrimenti andrà avanti fino alle 2 del mattino. È un giorno di pausa. Se il tuo corpo non sente la vita è dura, il corpo non la mente. Se il tuo corpo non sente la vita è dura, significa che non stai facendo nulla di meritevole. Il tuo corpo dovrebbe essere costantemente stirato. Deve sentire è dura. Quando vai a letto non dovresti dormire, devi morire. Sì. Un cuscino così. Non è nulla di meritevole. No. Ti sderai sulla roccia, cadi morto, proprio così. È così che dovresti essere alla fine della giornata. Eh? Poi, la mattina successiva si riprenderà come se fossi renato. In questo modo, no. Devi sentire che è pesante per il sistema. Perché questa è la natura di questo. più lo stiri, più lo stiri, più diventa forte, migliore diventa. Eh? Quelli che cercano di risparmiarlo per un altro giorno, non usandolo, loro, la vita non può essere conservata. Questo deve essere compreso. Eh? le cose morte possono essere conservate. La vita non può essere conservata, può solo essere nutrita e usata. se stai cercando di conservare e salvare te stesso, non funzionerà. Mi bombardavano costantemente. Dove era? A Bangalore o Delhi, da qualche parte. Troppe attività. Riunioni senza sosta. Ho detto, vado in vacanza per un'ora. Quando sei giovane, nemmeno quell'ora di vacanza dovrebbe esistere nella tua vita. Sì? Altrimenti invecchierai troppo presto. Sì? Quelli che fanno troppe vacanze invecchieranno troppo presto. Quando sei giovane, nemmeno cinque minuti di vacanza. Questo non significa che fai qualcosa, fai qualcosa, fai qualcosa. Questo significa che in un modo o nell'altro stai costantemente migliorando te stesso. O con il lavoro esterno o il lavoro interno. Ma il miglioramento dovrebbe accadere al punto che ovunque ti trovi ti distingui. Non è in competizione con qualcuno. Ma questa vita deve raggiungere la sua piena portata. Non è così? Questo è ciò che ogni vita cerca di fare. Non è unico a noi. Una palma da cocco fa tutto il possibile per diventare una buona palma da cocco. A tutti gli effetti. Così un uccello, così una cavalletta, così un verme, così un elefante, così ogni cosa. Non è così? Solo l'essere umano esita perché non hanno imparato come gestire la propria attività cerebrale. Il loro stesso pensiero semplicemente li manda in tilt. Anche una domanda basica. Dovrei diventare una vita a tutti gli effetti o no? Una domanda simile è diventata un dibattito e la gente pensa che sia intelligenza. Ci siete? Se tu debba diventare un essere umano a tutti gli effetti oppure no, c'è un dibattito in merito? Eh? Non c'è alcun dibattito in merito. è un modo di vivere. Questa deve diventare una vita a tutti gli effetti. Se questa diventa una vita a tutti gli effetti, cosa farà? Non mi interessa cosa faccia. Qualunque cosa faccia la farà molto bene. Solo questo è importante. Qualunque cosa fa la farà bene. Questo è tutto ciò che conta. Non è solo un certo tipo di attività essere importante nel mondo. Ogni attività è importante. Se è fatta bene, è fantastica. Qualunque cosa sia. Qualcuno spazza al pavimento. Vedi? Lo hanno fatto bene. Non è meraviglioso? È un lavoro inferiore di qualcos'altro? Quindi, per questo, per vedere ogni cosa allo stesso modo, per funzionare a piena velocità sempre, hai bisogno di devozione, hai bisogno del fuoco della devozione, altrimenti direttamente. Tahir, perché parlo contro il latte cagliato? Questo potrebbe diventare discriminatorio contro le mucchè. Anche se muori, devi vivere. Ma quando vivi, non dovresti essere morto. Non è così? Ci siete? Quelli che davvero hanno vissuto totalmente. Anche se sono morti molto tempo fa. Vivono ancora. Non è così in qualche modo? Sì o no? Ci ricordiamo ancora di Adiyogi dopo migliaia di anni perché ha vissuto così intensamente. Molti saggi, santi, così, che hanno vissuto così intensamente che dopo qualche migliaia di anni ancora non li possiamo dimenticare, vivono ancora nella nostra mente, nel nostro cuore. Tra un paio di giorni è il centocinquantesimo anniversario della nascita di Mahatma Gandhi. Vedi, l'uomo vive ancora semplicemente perché qualsiasi cosa facesse, possiamo essere d'accordo o in disaccordo con lui su molte cose, ma qualsiasi cosa facesse, la faceva assolutamente, senza esitazione. Non è così? questo deve accaderti. Che il tuo corpo, la tua mente, le tue emozioni, le tue energie non siano un impedimento nella tua vita. Sono strumenti di potenziamento nella tua vita. Questo è quanto devi fare. Grazie per la visione.